I cavalli sono in partenza. Partiti. Lugo la corda Posillipo mantiene il comando nei confronti di Aaron Secret che ha all'interno il Carbonaro. In quarta posizione Lucifero a precedere Abu Dhabi Approach con in coda Calista. Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con Posillipo leader nei confronti di Aaron Secret che ha all'interno il Carbonaro. In quarta posizione Lucifero che precede Abu Dhabi Approach con in coda Calista. Lungo l'arco nella curva non avvengono cambiamenti e posizioni stabili con Posillipo che affronta al comando la retta di arrivo avendo all'esterno Aaron Secret. Dietro i due per linee interne si mantiene il Carbonaro e in seconda linea in circa del Varco Lucifero. Siamo a 450 dal palo e passato in rimane in vantaggio alla corda Posillipo Cala Ron Secret. Il Carbonaro si propone all'attacco avendo più a centro pista Lucifero. Siamo a 200 dal palo con Posillipo in leggero vantaggio nei confronti di Il Carbonaro e Lucifero. Nel palo si difende dagli attacchi di Il Carbonaro. Terzo Lucifero su Aaron Secret e Abu Dhabi Approach. Andiamo a rivedere le immagini con Alessio Satta in sella a Posillipo in testa da un capo all'altro. Si è difeso fin sul palo dagli attacchi di Il Carbonaro numero 3, 6, 3, 5. Il probabile ufficioso arrivo della quarta corsa di Napoli. Grazie a tutti.